io non sono maddalena se si n'espa madlaine citazione colta di rené magritte se si n'espa un pip questo non è maddalena questo è un video di maddalena su maddalena è un video è un video prova a darmi la mano dai dai se non ce la facciamo chiedimi qualcosa qualsiasi cosa adesso ti venga a mente eh non ti sento non ti sento non ci sei mentre sto caricando questo video tu che guardi ancora non esisti non esisti io mentre carico il video per te ancora non esisto non solo ma quando mi guarderai io starò facendo altro non ci sarò e quando tu mi guarderai io starò facendo altro non ci sarò non ci siamo non ci siamo sono i nostri strumenti che dialogano tra di loro il tuo commento il tuo video di risposta o il mio video il mio commento loro dialogano noi siamo altrove ah così no per fare un discorso sulla percezione della realtà se tu esci di casa e fai una passeggiata a piedi tu vedi il mozzicone di sigaretta la vetrina con non lo so hanno cambiato la vetrina nel negozio sotto casa oppure vedi la macchina che passa il ragazzino che tira il calcio al pallone però già se tu prendi la macchina ed esci di casa tutte queste cose non le vedi cioè non è troppo veloce per vedere il mozzicone o notare la vetrina anche perché se la guardi vai a sbattere con la macchina se prendi un aereo poi neanche la vedi casa tua vedi il paesaggio dall'alto e casa tua non la vedi proprio quindi la percezione della realtà la percezione della realtà è a seconda dello strumento che usi no? quindi anche la televisione ti fa vedere delle cose che tu pensi di vedere in quanto tali ma sono le immagini televisive di quelle cose e sono le immagini televisive già decise da quella regia di quel telegiornale o di quel regista di quella trasmissione no? non è l'immagine che tu scegli di vedere tu Obama probabilmente faccia a faccia non lo hai mai visto non sai neanche se hai lobi delle orecchie uguali o se uno dipende di più di un altro non sai com'è nel privato non sai che vizi o che virtù c'ha per dire no? ecco ecco non è importante ricordarsi che ceci n'espa Madeleine ceci è un video un video io non sono io quando tu mi guardi io sono un video e e e alla ci sono au revoir a bientot stami bene e e